16, 3 minuti e 40 secondi ci ha raggiunto negli studi Rai di Via Asiago Francesco Decore, che salutiamo. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Francesco Decore, giornalista e scrittore, autore di Un pallido sole che scotta, da Africa a Napoli, viaggio nel cuore del sud, per le edizioni Spartaco. Ed è un viaggio non soltanto, diciamo, dentro una terra, dentro la natura di una terra particolarissima, anzi di più regioni, perché poi si tocca appunto la Campania e ovviamente la Calabria, da cui anzi si parte, ma anche un viaggio letterario. Quindi abbiamo invitato Francesco Decore proprio per parlare di come è possibile attraversare una terra, l'anima più profonda di una terra, attraverso le parole degli scrittori. Come è partito questo viaggio da Africa a Napoli? Diciamo che è un viaggio in luoghi simbolici del Mezzogiorno, con accompagnatori, come dicevi tu prima, particolari, scrittori spesso anche un po' dimenticati. Penso a Giuseppe Berto, nel tratto di Capo Vaticano. È stato il suo bel retiro della seconda parte della sua vita. Esiste ancora lì Villa Berto, dove spesso va la figlia Antonia, dove lui ha terminato il male oscuro. La seconda parte della vita di Berto si sviluppa appunto in Calabria. Mi è piaciuto fare questo viaggio partendo da Africa, che è un luogo simbolico molto forte, che è tornato alla ribalta anche grazie a un libro e a un film, Anime Nere. Ed è stato anche Africa al centro di un reportage di Corrado Stajano, uno dei più grandi, dei maestri del giornalismo e della nostra saggistica, che è stato recentemente anche ripubblicato dal saggiatore. Parto appunto da Africa e sviluppo questo viaggio in questo sud un po' remoto, diverso, che ha smarrito la sua bellezza e la sua identità. Quindi io ho questi accompagnatori nobili, particolari, scrittori, poeti, intellettuali, filantropi come Umberto Zanotti Bianco e vado a ristudiare questi luoghi che loro hanno attraversato, cercando di ritrovarne l'identità perduta, di un sud che è un sud a più facce, che è un sud che viene spesso descritto solo ed esclusivamente attraverso i dati dell'Istat, ma che ha un'anima che ancora ribolle. Ed è un viaggio anche un po' doloroso, perché il mio sud è un sud dove, diciamo, la bellezza si è fatto scempio della bellezza, si è fatto scempio della storia. Distruzione e fascino coabitano ancora, io ho cercato di descriverlo con parole mie e attraverso le parole, i libri di scrittori, ripeto, alcuni dei quali anche un po' dimenticati, messi da parte, sono state, per esempio, nella Salerno di Alfonso Gatto, questo straordinario poeta che per anni ha atteso post-mortem la ripubblicazione delle sue opere, del corpus delle sue poesie, attraverso un Oscar Mondadori. Abbiamo impiegato degli anni noi sostenitori di Gatto, da Gianni Moura a Fernanda Pivano, e me naturalmente per ultimo, a far ripubblicare le opere complete di Alfonso Gatto, che è stato un poeta straordinario, i cui versi ancora illuminano il sud, Salerno, la costiera amalfitana, Positano. Molti gli autori, come dire, grandissimi, ma anche gli outsider, come ricordava Francesco Decore, potremmo definirlo così, con un concetto un po' più contemporaneo, sarebbe anacronistico, a scriverlo, diciamo, al periodo in cui Berto compilava il suo male oscuro, sicuramente. Ma anche altri autori più, forse battuti, forse ancora più oggi, di quanto poi non lo fosse in vita, come Pasolini, per quanto riguarda Caserta Vecchia, dove poi si torna a parlare dell'interrogativo rimasto irrisolto, insomma, di quanto poi era possibile o non fosse possibile salvare quel tessuto sociale che andava necessariamente cedendo il passo alla società dei consumi, ma anche quanto poi invece questa società ha in qualche modo migliorato, almeno per certi aspetti, la qualità della vita. Quindi tenere in maniera anche quasi impossibile insieme queste due realtà, un benessere materiale che sicuramente tira fuori dalla miseria intere popolazioni, ma nello stesso tempo ne compromette irrimediabilmente il suo DNA culturale. E assolutamente questo è stato il dilemma che ha un po' caratterizzato l'ultima fase di Pasolini. Il Pasolini di cui parlo io è il Pasolini del Decamerone, che lui gira a Caserta Vecchia e vince l'Osso d'Oro a Berlino nel 1970. E il quale verrà peraltro portato in tribunale. Assolutamente, una delle tante cause che ha subito Pasolini nel corso della sua vita. Ricordo anche quella, ad esempio, di Cutro in Calabria, dove lui parlò di questa popolazione che gli ricordava i banditi del Far West. Era un'immagine naturalmente suggestiva, ma forte, per il quale fu portato in tribunale. Ma ritornando a Caserta Vecchia, io ho parlato con le comparse, ho parlato con gli attrezzisti, ho parlato con quelli che hanno curato la ristorazione durante le riprese del film. E ricordano questa figura assolutamente particolare di un uomo che non si atteggiava alla classica figura del regista, magari col megafono e lo sciarpone alla Fellini, ma che stava in mezzo agli altri, mangiava insieme agli altri. E che cosa chiedeva Pasolini? Agli abitanti di Caserta Vecchia chiedeva di restate come siete, cercate di non cambiare, cercate di non farvi travolgere dallo sviluppo. Che era un po' quel tema per il quale Pasolini ha girato i film della trilogia, che è insomma un ritorno alla purezza. Lui gira a Caserta Vecchia, gira ad esempio a Napoli, a Santa Chiara. Ci sono delle scene in cui l'allievo di Giotto lo fa lui stesso, perché non riesce a convincere Sandro Penna prima e Paolo Volponi dopo a fare quella parte. Girerà nello Yemen, a Sanaa, girerà in luoghi che lui riteneva fossero ancora non corrotti dallo sviluppo. Ecco, proprio l'ultima fase, la dicotomia sviluppo-progresso, lo sviluppo è di destra e il progresso è di sinistra, che caratterizzerà e cerco anche di capire un po' la solitudine, di carpire la solitudine di Pasolini in quest'ultima fase della sua vita. Anche perché si trattava ovviamente di una lotta contro lo sviluppo sostanzialmente nata per fallire, perché è evidente che l'ondata era inarristabile, pur con tutte poi le ambiguità del fatto che, come dicevamo prima, la ricerca di una purezza poi non garantiva invece quegli standard economico-sociali sanitari che invece quello stesso sviluppo offriva alle popolazioni, pur corrompendo, come rileva anche lo stesso Decore, quelle popolazioni che in qualche modo, dal punto di vista culturale, ma non soltanto quelle, direi in generale, un po' tutto il continente europeo, chi più chi meno a seconda delle caratteristiche dei luoghi. Certo, nel sud tutto questo appare più dirompente perché la matrice anche di cultura legata alle radici arcaiche era ancora visibile durante quegli anni. Assolutamente. Da questo punto di vista, secondo Decore, che cosa è che affascinava scrittori, artisti, registi che non erano di quelle terre come appunto Pasolini o anche un Giuseppe Berto che ha deciso di in qualche modo trasferirsi lì proprio per sottrarsi anche a quel mondo della scrittura che nello stesso tempo di cui cercava il plauso, ma del quale forse non si sentiva. Assolutamente, lo aveva nevrotizzato completamente, tant'è vero che questa nevrosi si trasferisce nella sua opera più importante che è Il male oscuro, che è del 1964. Contemporaneamente con lui ricerca la purezza e la bellezza. Io credo che al sud scrittori, viaggiatori abbiano cercato una forma di identità perduta. Io penso anche a Camus, ad esempio, che nel corso del suo viaggio in Italia, ad un certo punto insieme con suo amico essodale Nicola Chiaromonte, si trasferisce a Pestum e a Pestum quella luce, quella luce meridiana, la luce che lui aveva amato delle spiagge di Algeri, della sua identità primigenia, lui la ritrova a Pestum e per lui è una rivelazione, quindi è un modo, credo, di placare anche i propri istinti, anche le proprie sovrastrutture ad un certo punto. Berto ricostruisce a Capovaticano una piccola comunità fatta dal muratore, dal salumiere, dallo scultore, dal contadino, nel quale lui si ritrova perfettamente a suo agio, mentre non si trova più a suo agio nel mondo, dal quale, come dicevi tu giustamente, cercava anche il plauso, che era il mondo della cultura, il mondo del cinema. Ecco, ci sono questi letterati, questi scrittori, che hanno cercato, anche con una forma di amore assolutamente naturale verso il mezzogiorno e verso le sue popolazioni, hanno cercato in qualche modo di riportarsi ad una identità primigenia. Tra l'altro penso a Zanotti Bianco, ad esempio, una straordinaria figura di filantropo, che tra la perduta gente, che è la gente di Africo, porta le scuole, porta la cultura, l'alfabetizzazione, cioè tenta una forma di civilizzazione, però restando completamente affascinato dai rapporti umani, che probabilmente in altre zone si erano perduti, erano stati compromessi. E quello che duole è che questi rapporti umani si sono ad oggi perduti, anche nel mezzogiorno, che in qualche modo li conservava. Torniamo sulla figura di Franco Antonicelli, parlando di Pesto, ma perché è interessante anche la sua scoperta del Sud, perché avviene, diciamo, per un caso particolare, non volontaria, perché si tratta di un confino che doveva durare, credo, alcuni anni, ma durò soltanto otto mesi, eppure innescò qualcosa, perché evidentemente prendere un intellettuale dell'epoca e spostarlo in una realtà di quel tipo ha innescato qualche cosa. Sì, lui è stato al confino ad Agropoli, e, ecco, a proposito di rapporti umani, per lui sono fondamentali i rapporti, per esempio, con i pescatori della zona cilentana. E c'è anche un forte rammarico in Franco Antonicelli, perché lui sostiene, e lo scriverà, che, ad esempio, al confino Pavese ha scritto, Pavese è stato per un periodo al confino, anche lui, in Calabria. Carlo Levi, naturalmente, ha scritto l'opera che tutti conosciamo, Il Cristo si è fermato ad Eboli, e lui non è stato in grado, da un punto di vista anche sociologico e letterario, di produrre un'opera all'altezza della situazione. In realtà esiste un libro di racconti, che è molto bello, di cui uno dedicato ad Agropoli, che fu pubblicato, credo, per le edizioni della RAI, Il soldato di Lambessa, è assolutamente introvabile, per cui mi ripropongo, diciamo così, di cercarlo attraverso Fahrenheit. Facciamo una caccia al libro estemporanea. Facciamo una estemporanea, esatto. E quindi cerchiamo anche questo libro. Ed è molto bella anche la scena del matrimonio, perché lui ad un certo punto decide di sposarsi ad Agropoli, per cui veniva chiamato il gerbanese perché era alto biondo, quindi da un punto di vista anche proprio di caratteristiche fisiche completamente diverso dalla popolazione locale, e si vede questo corteo che arriva da Torino per festeggiare. E sembrava un corteo di divi del cinema e come tali vennero in qualche modo identificati dai locali. Un nostro ascoltatore che non si firma ci chiede, quindi rigiriamo l'interrogativa, Francesco Decore, qual è la bellezza perduta del Sud? Allora, c'è una bellezza paesaggistica, semplicemente. Io penso che il paesaggio di gran parte della campagna e di gran parte della Calabria sia stato completamente sventrato, per effetto naturalmente dell'opera nefasta dell'uomo. C'è tutta la descrizione appunto dell'aria attorno a Pestum, che è la descrizione della statale 18, che io faccio chilometro per chilometro quasi, di una strada che è un pessimo esempio, diciamo così, di una statale americana in 32esimo, dove si affacciano addirittura dei resort con palme, negozi di ogni tipo, capannoni, e ad un certo punto invece imboccando una stradina laterale è come fare in un viaggio nel tempo e scoprire questa luce rosa assolutamente abbagliante e maestosa delle rovine di Pestum. Ecco, questo contrasto è un contrasto che noi possiamo ritrovare in molte parti del Sud. Penso a Stilo, ad esempio, la casa natale di Tommaso Campanella è quasi un rudere, c'è appena una targa. Penso anche ad altri luoghi del Mezzogiorno simbolicamente molto forti che sono stati completamente deturpati, quindi deturpato il paesaggio e deturpata la storia. Si tratta di un viaggio, lo dicevamo, sicuramente letterario, quindi poi torneremo anche su questo aspetto che lega la letteratura con i luoghi e quanto poi i luoghi si impregnano delle visioni, anche dei versi di chi li vive, di chi in qualche modo li canta attraverso la propria scrittura. Però svegliamo, insomma, direi la partenza letteraria è già dal titolo, perché un pallido sole che scotta è un verso di Attilio Bertolucci. Un verso di Attilio Bertolucci. Poeta del Nord, quindi che con il Sud c'entra poco, ma è uno simoro in realtà. Per quale motivo questa scelta? È perché mi dà la raffigurazione reale del mezzogiorno di oggi, che è un sole che è diventato più pallido, ma che continua in qualche modo a scottare sulla pelle degli italiani e dei meridionali, naturalmente. Bene, dicevamo quindi i luoghi e la letteratura. Qual è, anche dal punto di vista dello scrittore, Francesco Decorio, quindi scendiamo, usciamo fuori dal libro e capiamo anche un po' qual è il meccanismo che innesca la voglia di narrare, il meccanismo che innesca anche la voglia di cercare le narrazioni precedenti, perché quella di Decorio in Un pallido sole che scotta è un po' come una piccola caccia al tesoro, viaggiare attraverso i luoghi per ritrovare gli sguardi di chi c'è stato prima e ci ha lasciato le sue sensazioni attraverso la scrittura. Io sono sempre stato molto incuriosito, come dicevo all'inizio, da questi scrittori che non nativi delle regioni meridionali hanno poi avuto un rapporto d'amore con il Sud. Abbiamo parlato naturalmente di Giuseppe Berto, ma parlo anche a un certo punto di scrittori che dal Sud poi si sono trasferiti altrove. Ad esempio c'è un grandissimo scrittore calabrese morto pochi anni fa che è Saverio Strati, che ha scritto dei libri per me indispensabili per capire appunto la mutazione antropologica, culturale, sociale della Calabria e del Sud. Penso a Tibiettascia, penso alla Teda. La Teda è un pezzo di legno che diventa una sorta di torcia. Saverio Strati da ragazzo ha fatto il muratore ad Africo perché il padre era muratore. Saverio Strati è scomparso qualche anno fa in Toscana, regione nella quale si era trasferito da molti anni. I libri anche questi introvabili. La Teda soprattutto è un libro che non si trova addirittura nemmeno nelle biblioteche, ma che serve in qualche modo per darci uno spaccato di una società che non c'è più assolutamente, che però ci fa riflettere su quella che è la nostra storia. Penso ad esempio anche a uno scrittore come Enzo Siciliano, di origine calabrese, che ha moltissima Calabria nei suoi romanzi. Romanzi, penso ad esempio, a Diamanti, al postumo la vita obliqua, a non entrare nel campo degli orfani. Cioè romanzi in cui il rapporto di chi è nato o comunque ha origini meridionali ha con questa terra pur essendosene andato. E questo mi ha sempre in qualche modo affascinato e incuriosito molto. Del resto anche lo stesso Pasolini ha avuto un trasporto particolare per Caserta Vecchia, non per la città della Reggia, che gli provocava assolutamente noia, come ha avuto modo di scrivere con parole non propriamente elogiative della città nuova, diciamo. Oppure penso a uno scrittore come Gustav Erling, che polacco ha vissuto la sua seconda vita a Napoli e che si è riconciliato con la napoletanità fino alla scomparsa. A Napoli arriviamo prestissimo, ma prima il nostro ascoltatore, Peppe D'Arizio, si domanda, giocando un po' anche sul libro di Berto che abbiamo citato più volte, visto che abbiamo parlato della bellezza perduta, ci chiede e qual è il male oscuro del Sud? Eh beh, qui il discorso si fa molto complesso. Il male oscuro del Sud io ad un certo punto ne parlo, perché io penso che, rivolgendomi ai meridionali, da meridionali, io penso che al Sud siano i cittadini anzitutto che debbano fare un profondo esame di coscienza, perché prendersela sempre con gli altri, con il governo, con le politiche sbagliate, con le scelte errate, con la classe dirigente che non è più all'altezza della situazione, naturalmente fa parte della ricerca delle cause per cui il Sud è in questa spirale così assurdamente negativa, ma io penso che siano i meridionali anzitutto che debbano fare un profondissimo esame di coscienza e chiedersi perché le loro regioni, le loro terre si sono ridotte in questo modo, perché la classe politica e la classe dirigente che hanno espresso ha rovinato il Sud, perché le scelte che sono state fatte nel Mezzogiorno sono scelte che in qualche modo hanno zavorrato il Mezzogiorno. Scrive un altro ascoltatore, per ritrovare l'anima del Sud bisogna percorrere il tratto appenninico dalla Campania fino alla profonda Calabria da Napoli. Beh, il viaggio di Francesco Di Corri è esattamente l'opposto, partendo da giù e risalendo. Ecco, perché questo viaggio doveva proprio finire a Napoli? Perché Napoli è la meta? Napoli è la meta perché Napoli è, essendo stata la capitale del Mezzogiorno, è anche un punto di arrivo di tutte le contraddizioni del Sud, anche da un punto di vista simbolico. A Napoli io lavoro, lavoro al quotidiano il mattino, quindi ho un punto di incontro, un osservatorio privilegiato rispetto alla realtà napoletana. Io però l'ho affrontata da un punto di vista anche qui, un po' letterario. Parlo di Napoli come città-corpo e cerco di interpretarne lo spirito non attraverso la bella giornata, perché penso che il sole appiattisca tutto, ma attraverso quegli autori che in realtà hanno esaltato il lato oscuro della città. secondo me, non so se è una provocazione o meno, ma io la vivo come tale, Napoli manifesta il meglio e il peggio di sé nelle situazioni di difficoltà, quindi con un'immagine metaforica sotto la pioggia. Sono andato anche alla ricerca di autori che in questo senso hanno cercato di trasferire al mondo un'immagine di Napoli un po' differente e non sempre sono stati alla ribalta delle cronache letterarie. C'è un libro, secondo me, bellissimo Malacqua di Nicola Pugliese scritto nel 1977 pubblicato da Einaudi pubblicato da Italo Calvino sponsorizzato da Luigi Compagnone altro grande scrittore intellettuale napoletano scomparso pochi anni fa ma un po' messo da parte, un po' dimenticato. Ecco, ci sono una serie di autori che hanno descritto Napoli attraverso una luce un po' differente con una potenza espressiva straordinaria ma non rifacendosi ai canoni classici della napoletanità o dei luoghi comuni di Napoli. Ecco, Francesco Decorio, io però ho una domanda più scomoda che la devo fare perché parlare di purezza perduta, di radici legate all'antichità, all'antico, quindi anche ad una dimensione forse mitologica, mitizzata, diciamo del passato, non rischia di consegnarci anche una visione di un Sud bloccato nella storia che non evolve mai e che è, sì, da un lato il limite su cui si piange ma nello stesso tempo anche la fonte di queste descrizioni letterarie di cui tutti poi in fondo ci abbeveriamo. Ma il rischio fondamentalmente c'è, però io non è che voglio restituire l'immagine di una purezza incontaminata che deve resistere all'onda dello sviluppo, per dirla pasolinianamente, per cui ci sono le tribù incorrotte come quelle che Pasolini identificava in alcune zone, in alcune aree di Napoli e che continuano a resistere proprio in virtù della mancata corruzione dall'esterno. Io ho un capitolo particolare in cui appunto rispondo a questa domanda che è il capitolo dedicato ai giovani boxer di Marcianise. Marcianise è un grosso centro dell'entroterra casertano che ha avuto un'anima contadina, uno sviluppo industriale e commerciale adesso. C'è un tessuto di piccole e medie aziende, c'è un tessuto di grandi centri commerciali, c'è l'outlet più grande d'Italia e c'è una scuola di pugilato tra le più grandi del mondo dove il maestro Domenico Brillantino, lei Chelsea Orbox, che ha sfornato i campioni olimpici, penso a Clemente Russo, penso a Mirko Valentino, prende questi ragazzi dalla scuola, dalla strada, dai bar, li va a prendere lui personalmente e li porta in palestra. Però gli insegna attraverso la box che cos'è il rigore e che cos'è il metodo, che cos'è la disciplina. Ecco, il rigore, il metodo, la disciplina attraverso la voglia di riscatto fanno sì che i ragazzi del Sud possano affermarsi e non essere protagonisti virtuali o reali di una fiction come Gomorra. Ecco, in questo io penso che il vero sviluppo del Sud possa avere una sua traccia, una sua identità, cioè partire da quella purezza e da quella forza, ma attraverso il rigore, la voglia di riscatto, la disciplina, il metodo, l'applicazione, poter essere in grado di emergere in più campi e in più settori. Dicevamo Berto, Antonicelli, Camus, Pasolini, Saviano, come ricordava... Saviano, perché parla appunto di questa palestra dell'eccezio box del maestro Brillantino, dove è andato anche lui a tirare di box, perché la box come forma di educazione alla vita. Questa è la geografia sia letteraria che veramente geografica di un pallido sole che scotta di Francesco Decore, ormai il libro è stampato, ma se dovessimo aggiungere un luogo e un autore che non è entrato in questo viaggio. Rocco Scotellaro, la Lucania, mi manca molto, era un passaggio che avrei voluto fare, perché è proprio il punto di passaggio tra la tradizione e la modernità. Scotellaro, il poeta contadino, il poeta sindaco, è l'uomo che con Mallio Rossidoria cercherà di portare nella sua terra forme di identità nuove anche attraverso l'opera che lui avrebbe potuto fare con i contadini, con le terre, tant'è vero che lui muore a Portici dove lavorava all'istituto di Agraria e in qualche modo aveva un rapporto nuovo con la modernità. Non era soltanto fatto giorno e si ha l'amore per quello che si era, ma anche un guardare oltre, una proiezione verso il futuro che purtroppo in Scotellaro è rimasta strozzata perché è morto molto giovane. Alessandra da Napoli ci dice Altolà non siamo stati la capitale del Mezzogiorno, siamo stati una grande capitale europea ma sotto dominazione. Sotto dominazione, se pensiamo nel 600 Napoli aveva più o meno gli stessi abitanti di Londra e Parigi possiamo pensare che era una capitale assolutamente europea ma diciamo non sono andato così a fondo nel tempo mi sono fermato diciamo così al 900. Francesco Decore grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Ricordo che l'occasione di questa conversazione con Francesco Decore è l'uscita di un libro per Spartaco edizioni si intitola Un pallido sole che scotta da Africa a Napoli viaggio nel cuore del sud e ricordo anche che questa conversazione come di consueto potete riascoltarla sul nostro sito www.fareconlacalcentro.rai.it grazie a tutti